In Italia si muore di cancro meno rispetto alla media europea. Nel 2021 diminuiscono i recessi per tumori, migliora la sopravvivenza e quanto emerge dall'undicesimo report presentato a Roma all'Istituto Superiore di Sanità. Sulla stessa oncologica appesa alla pandemia, le dimensioni della malattia al momento dell'intervento spesso sono maggiori di quelle rilevate nel periodo pre-Covid. Il rischio di morte è raddoppiato per i malati oncologici con infezione. Per il recupero delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ha detto il Ministro della Salute e Speranza, ha promosso un finanziamento di circa mezzo miliardo a disposizione delle regioni e durata dell'intervento estesa per tutto il 2021.